Amici e amiche di Kenobi's Boach Productions, Mario più Cristo si abbona! Ciao Mario più Cristo, è sempre bello vedere il tuo nickname apparire su schermo. Io sono Kenobit, lui è Mario più Cristo, mentre invece lui è Napo, a.k.a. Lapis Niger. Oggi qua non in veste di fabbro nanico, non in veste di voce e cosa? Voce e persona dei walkie talkie, ma oggi qua in veste di Lapis Niger. Tu lo pronunci Niger o Niger? Niger. Mi piace di più. Lapis Niger, che è il suo nome da illustratore e fumettista. Abbiamo parlato già in una puntata passata di Kenomattina dei suoi lavori, ma oggi siamo qui riuniti per parlare di Piano Immaginario, che è un'opera del quale ci aveva già parlato, ci aveva già parlato dell'esistenza di Piano Immaginario, ma adesso esiste e si può preordinare. Cos'è Napo? Allora, esiste nel senso che tutte le tavole sono state disegnate, tutte le tavole sono state scansionate, ripulite, formattate e organizzate dentro un pdf classico che poi si manda dallo stampatore e dovrei mandarlo in stampa oggi e da lì poi esisterà, sarà fabbricato meccanicamente da delle macchine per due o tre settimane ci vorranno, perché venga pronto. E poi verrà spedito e allora potrà cominciare a esistere, nel senso, nelle teste delle persone che lo leggono. Perché comunque sarà un cristone gigante di opera, cioè noi lo vediamo qua disegnato. Allora, innanzitutto ti voglio bene perché questo è bello, dieci volte il mock-up renderizzato che fa veramente piangere Gesù Bambino. Così disegnato è questo, già vinci il premio mock-up 2021 per adesso. Sarà un'opera grossa perché è un volume unico di una roba che tu ti porti dietro da molti anni. Eh sì sì, praticamente è l'unione di due volumi più gli altri due volumi, i due volumi 1 e 2 erano già usciti, nel 2011 e nel 2014 erano usciti, però mancavano di questa conclusione che è comunque più lunga di tutti e due i volumi, forse è il doppio di tutti e due i volumi messi assieme. Quindi vengono 970 pagine di libro. 970 pagine? Sì sì sì. Tra l'altro 970 pagine non piccoline, 970 pagine a quattro? No, sono A5, A5. Il formato che ho scelto a suo tempo e che ho ovviamente dovuto continuare a mantenere perché era un formato molto particolare e quindi tutte le illustrazioni erano fatte in quel modo, tutte le tavole erano fatte in quel modo e quindi ho dovuto continuare senza poter sovvertire queste idee e renderla più pratica. Comunque era il formato di i primi fumetti che leggevo, che erano Cattivi e Lupo Alberto. Quindi quell'albo in A5 che si apre, rilegato sul lato corto, che in tipografia chiamano album. Tra l'altro io amo quel formato e tra l'altro sono invidiosissimo di Lorenzo Ceccotti, che di recente tramite Francesco Artibani, che tra l'altro mi piacerebbe invitare anche lì prima o poi su Cheno Mattina, è entrato in possesso Lorenzo Ceccotti di tutte le tavole dell'Omino Bufo, che io me le tatuerei sulla schiena le tavole dell'Omino Bufo, è bellissimo. Quindi è il formato Cattivi, formato Lupo Alberto, però alto come la Torre Galfa più o meno, perché sono 900, quasi 1000 pagine. La Torre Galfa, mi fa ridere. Non so perché mi è uscita, hai presente quando fai una query nell'archivio mentale e ti dà, è uscito Torre Galfa, non so perché. Sarà ancora lì abbandonata, penso. No, sai che ci hanno fatto i lavori, è vicino a casa mia e quindi... Allora, la Torre Galfa, scusami, siamo qua riuniti io e Napo per parlare della Torre Galfa, un luogo a Milano che era una banca dove lavorava un mio zio che, indovina un po', è morto di tumore ai polmoni perché c'era l'amianto dentro quella banca e a un certo punto hanno smesso di usarla e sono rimaste centinaia di migliaia di metri quadri di spazio abitativo vicino alla stazione centrale a Milano lì per anni in decadenza e a un certo punto è stato occupato dal collettivo di Macao e poi hanno detto, no ragazzo, ho ciò che c'è l'amianto e poi vabbè, Macao è diventato un'altra realtà a Milano o altrove dove tra l'altro io, Napo, Enrico e Arottenbit abbiamo organizzato sbagliate cose. Salutiamo Arottenbit, ciao. Ciao Arottenbit. Comunque, ok, finita l'excursus sull'edilizia urbana milanese, torniamo al fumetto. Che è alto come la Torre Galfa ma non ha dentro l'amianto. Non ha dentro, sarebbe una svolta, formato, formato cattivic di amianto, così. E tra l'altro sbaglio o tu hai fatto tutto il lettering di recente? Sì, 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 no, questa è un'altra caratteristica dei canoni che mi son dato. Il lettering, che sia quello dei balloon, che sia quello dell'introduzione, deve essere fatto tutto a mano e deve essere la mia calligrafia. Non per esigenze di egocentrismo, ok, ma per dargli un'unità. Ieri c'era anche da te Cert che parlava della questione lettering che nel fumetto è una nota veramente dolente. Insomma, vedi le tavole giapponesi e ci sono delle spatafiate di lettering fatti ad hoc per stare bene con la pagina che poi vengono riportate in Italia e non riescono ad avere la stessa efficacia. È abbastanza, cioè, visto che la parte testuale è molto importante, sarebbe anche ora che. Però, vabbè, l'Inner Circle Fumetti è molto sordo a queste cose e ha sempre tante cose da fare. Quindi l'Inner Circle non prende provvedimenti su questa cosa e allora lo deve fare direttamente l'autore. No, ma tra l'altro, cioè, la lettera, ce ne parlavamo, è stato un bel discorso ieri quello che abbiamo fatto con Cert. Cioè, la lettera, proprio come simbolo, come forma di espressione, è potentissima. Cioè, quel però scritto che stiamo vedendo è però, a parte che è una R stupenda quella, ma è un però scritto più grande. Cioè, le parole hanno letteralmente un peso e un... A parte che noi in Italia abbiamo anche tutto quel movimento del quale io sono molto critico, che è il futurismo, che però ha fatto anche degli esperimenti interessanti in termini di layout e potenza della parola. Sono... e hai fatto tutto di recente, giusto? Sì, sì. Quella è... diciamo che la lettering l'avrò fatto un mese e mezzo fa. Mi fa ancora male la spalla perché calco troppo a volte. Insomma, l'ho fatto tutto in un po' di giorni perché l'avevo prima segnato tutto a matita perché è l'ultima cosa che va fissata perché se c'è qualche cambiamento di contenuto nell'ultimo momento e poi ovviamente l'ho fatto in modo che fosse un po' fresh, come si dice. In modo che ci fosse anche un po' di stortura. Cioè, l'ho fatto non con l'intenzione che ci fosse, ma ho mantenuto la struttura normale della persona che scrive con la papacalligrafia, ecco. Anche perché, cioè, l'avevi... io seguo le tue storie su Instagram, sono sempre delle storie di qualità e mi era sembrato quasi un gesto di equilibrismo, nel senso che tu avevi finito il libro e poi ti sei messo... che poi dopo ti sei messo a fare tutto il lettering. Potevi sbagliare tutto, potevi rovinare tutto. Io trovo... cioè, una volta... cioè, i disegni per me sono dei miracoli, nel senso che trovo miracoloso che sono una serie di segni, non sbaglio, comunque riesci a nascondere l'intenzione, cioè, l'errore con l'intenzione e il disegno alla fine è una roba miracolosa che funziona e che sta in piedi. Il lettering... fare il lettering alla fine è tipo gesto di equilibrismo, potevi rovinare una tavola e invece non l'hai fatto. Eh, vabbè, però comunque queste... allora, la mia idea è che la tavola deve uscire dalle mie mani che è al 90%, no? Poi verrà scansionata. Se c'è proprio un errore che non riesco a correggere con dell'acrilico bianco e poi riscrivendoci sopra, lo correggo in digitale, cosa abbastanza rara. Infatti è più difficile così perché beccare la tavola dove c'è l'errore è più difficile. Però comunque, avendo avuto un lontano passato da Writer, di quelli che facevano i graffiti, così ho conosciuto Rico, ho riempito anni e anni di pagine con calligrafia e questa che vedi è una calligrafia risultante di quelle stratificazioni. Cioè, per me, nel senso, se sbaglio a mettere, come si dice, a mettere, a letteringare qualcosa su una tavola, non è una cosa che mi fa buttare via tutta la tavola. Come se sbaglio alcuni tratti nel disegno. Possono sempre essere ripresi e diventare qualcos'altro. Questo non è mai un vero problema. È rarissimo che una macchia, un tratto, poi non riesca a diventare parte integrante della tavola. E in quel caso, o viene corretta nel caso in cui si ha un errore proprio fondante, o viene corretta in digitale, o alla fine, oh, rifaccio anche la tavola. Però di solito la tavola la rifaccio soltanto se ci sono delle impostazioni, ecco, qui vedete una tavola, prospettive, se è proprio, c'è della stortura che... Che non funziona. Ma tu con che tecnica hai usato? Perché c'è una domanda che... Cioè, capita, come sai, che qua su Cando Mattina capita spesso di avere artisti di vario tipo. Una domanda che si fa, che viene fatta spesso, è una domanda interessante, perché oggi ci sono decine di risposte diverse, è come lavori? Cioè, tu con che tecnica hai realizzato il piano immaginario? Allora, il piano immaginario in particolare ho, diciamo, le vigà affinato la tecnica per l'inchiostratura passando dalle penne, la paper made flare, che è una che usa anche il Pira, passando per questo piano immaginario ho deciso che avrei usato china e pennini, proprio per evitare di... Sapendo la molle di pagine, non volevo buttare via un quantitativo di plastica di queste penne che si esauriscono e poi non so più dove metterle, perché una volta che hai esaurito una penna così... È plastica. Eh, sì, sì. E allora ho fatto un po' di prove con i pennini, che già usavo un po', però non li usavo in modo sistematico, ho detto, faccio tutto a pennino, grezzo, nel senso non... non farò sicuramente un tratteggio alla Durer, non sarà una cosa, però pennino e pennello sono questi, matita 2H o 4H e poi sopra pennini e pennello, in modo che sia più semplice possibile il setting di... di setting tecnico, insomma, e che mi permetta di fare un po' di pasticci con l'inchiostro, perché quella era la cosa importante, cioè... mi chiamo Lapis Niger perché il nero è la base fondante della tecnica, ho trovato delle chine che... non la classica che trovi in qualsiasi negozio, così sono andato a prendermi delle chine giapponesi che facessero un bel nero, non per dire che sono giapponesi, ma che facessero il nero che con una passata è coperto, e quindi ho preso questa qui che non mi ricordo come si chiama, però l'avevo provata, l'avevo trovata in un Japantown, l'avevo provata, mi andava bene, ho ricomprato anche quella e poi è tutto qui, dei fogli di carta 200 grammi e poi per questa... ecco, ad esempio, questa tavola che vedete è basata su un'inquadratura di Genova, perché c'è una parte del piano immaginario che è ambientata a Genova, la Genova del piano immaginario, non la Genova reale, e qui ho seguito, siccome sarei andato a Genova a fare le foto, tendenzialmente, come ho fatto nel piano immaginario 2 per Venezia e nel piano immaginario 1 per Milano, però siccome ho iniziato gli esecutivi, le tavole finite, le ho iniziate a febbraio-marzo scorso, non si poteva tanto andare a Genova, non ho capito bene perché, e allora qui sono andato su Google Maps, ho preso tutta una serie di screenshot e quindi guardando la foto di Google Maps l'ho rifatta a matita, ho aggiunto le cose surreali che mi andava ad aggiungere, faccio questa specifica perché ieri dopo che hai fatto l'intervista a CERT c'è stato il ride sul canale di Lorenzo, di Lorenzo Ceccotti che non conoscevo, sono andato a vedere cosa faceva e ho visto come come lavora lui che come si dice che fa prima una bozza impostata come si dice a computer, cioè computer nel senso con penna ottica che ti permette di non buttare via un sacco di fogli quando devi rifare, rifare insomma e sistemare cose che hai già disegnato, poi la stampa e fa l'esecutivo, fa il definitivo a mano, una tecnica interessante ecco, devo dire magari un po' più laboriosa però per le esigenze che ha lui veramente fittante. Ma non conoscevi Lorenzo o non conoscevi il suo canale? No, 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 cioè nel senso personalmente non l'ho mai conosciuto, ieri ci ho scambiato due parole per la prima volta però assieme ai superamici avevo visto un sacco di cose sue e tra l'altro a proposito di Giacomo avevo trovato un suo fumetto Golem l'avevo trovato a San Francisco a Japan Town Ah che figata! Sì sì e dico ah ma questo accidenti è arrivato fin qui e dunque è giunto fino qui e quindi nel senso per dire sì ci sono un sacco di tecniche per fare diciamo per disegnare una città per disegnare dal vero per disegnare da ovviamente sarebbe bellissimo fare tutto in plein air anche perché andare in quel posto tipo quello che state vedendo che è una piazzetta che non mi ricordo come si chiama sedersi lì e disegnarlo magari non ti viene precisa precisa però ti vengono un sacco di idee su come possono accartocciarsi gli edifici spostarsi finestre e poi ti fa stare bene anche cioè ricordiamo sempre che a me la frase che ha colpito di più di Pira qua all'inizio di Super Relax dice questo qua è un libro che ho disegnato cercando i luoghi del relax quindi cioè mi c'è una io vorrei disegnare una delle cose che mi riprometto è iniziare a disegnare male che cazzo me ne frega non siamo mica condannati obbligati a essere bravi in quello che facciamo è bello fare le cose voglio voglio mettermi a disegnare nel mondo reale anzi probabilmente oggi se mi avanza tempo cosa che non succederà lo farò c'erano due domande una domanda di CelleDref domanda hai mai ricevuto una domanda bellissima e specifica hai mai ricevuto commenti da gente che abita in quei palazzi la gente che abita in quei palazzi lì no perché ancora non è uscito il libro ma in quelli apparsi in passato penso di no no penso proprio di no perché ho preso delle inquadrature di posti abbastanza l'idea era sempre scegliere degli spazi molto mainstream molto pop ad esempio a Milano ci sono inquadrature dei Navigli della Torre Velasca forse anche della Galfa no no non era la Galfa quella comunque vari posti c'è piazzale Cadorna e cose così che sono posti veramente super ultra pop perché volevo fare delle il personaggio principale di questo libro è un architetto no e è un architetto che vive inizialmente nelle nei locali tecnologici della metro di Milano e quindi si trova a voler un po' sovvertire la forma di questi posti mainstream e quindi mi servivano dei posti appunto così mainstream come piazzale Cadorna ad esempio ed è difficile che qualcuno che abita lì magari abbia piano a immaginare anche perché cioè sono libri che sono stati stampati in max 500 copie difficile che arrivino alla persona che abita in quella via quei palazzoni ecco a proposito di stampe c'è una domanda di Cats That Passion della quale io so già la risposta ma che è una domanda perfetta perché è l'assist per parlare di uno degli aspetti che io trovo molto affascinanti molto belli cioè una delle robe che mi piacciono molto di questo progetto e la domanda è Napo lavori per una casa produttrice? una casa produttrice? no anzitutto lavori sì allora bisogna distinguere guardiamoci tutti in faccia arrivati a questo punto io distingo le mie occupazioni in lavoro che non mi piace come termine ma lo uso e hobby pagati quindi tutti quelli che mi fanno mi portano soldi sono hobby pagati non lavoro quello che invece mi porta impegno e che non è esattamente pagato questo è diciamo lavoro anche se su questa su questa definizione avrei da dire e una casa produttrice una casa editrice io con le case editrici mi sono annusato varie volte ma alla fine non è andata mai mai in porto quindi è una sono cose che faccio sono libri che stampo io economicamente mettendo i soldi perché un tipografo stampi ieri si diceva che vent'anni fa non è che andavi da un tipografo così e gli dicevi ehi ciao mi stampi ci voleva la mediazione della casa editrice oggi non è più esatto adesso la casa editrice quello che può garantirti sono due cose mettere i soldi per stampare il libro quindi diciamo l'investimento iniziale e la distribuzione ok quindi affidarsi a una rete che porta i libri in giro per le librerie in Italia o fuori dall'Italia in casi fantascientifici e nel primo caso si può sostituire tranquillamente i soldi che mettono a casa editrice l'investimento iniziale con il pre-order con i pre-order con crowdfunding con vado a lavorare per un anno in fabbrica o vado a lavorare per un anno in cucina come ho fatto quasi dieci anni fa due anni in cucina mi tiro su del cash a costo di spaccamento di schiena e poi lo uso per stampare il libro che bla 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 questo quest'ultimo metodo è stato usato anche per stampare i dischi degli uochi però parentesi che chiudiamo subito e e poi per la distribuzione appoggiandosi al fatto di andare in giro a suonare appoggiandosi al fatto che ci sono un po' di librerie indipendenti appoggiandosi al fatto che un po' usi internet per quanto le alcune piattaforme possano smettere di essere utili come ad esempio instagram che ormai degli algoritmi ha fatto ha fatto garrota sì sì perché infatti ecco anche questo bisogna essere molto attenti a dove si cerca di diffondere l'esistenza del proprio libro ad esempio io ho aperto l'instagram con la finalità di poi promuovere piano immaginario quattro anni fa sapendo che stavo lavorando allo storyboard in mezzo ad altre milioni di altre cose ho detto e dai famo sto instagram e mettiamoci anche su questa piattaforma qui che richiede molto più tempo rispetto ai benefici che poi può dare visto che di tutti i contatti che mi seguono forse un 10% riceve le mie notifiche e quindi finito il piano immaginario l'instagram verrà non chiuso parcheggiato e si passerà ad altre metodologie quindi quando una persona non si appoggia una casa editrice deve stare sempre molto attento sul pezzo a come diffonde il proprio libro io dovrò fisicamente andare quando si potrà in certe librerie a fare la presentazione del libro librerie che conosco sperando che ci siano anche librerie che non conosco che si interessano e a presentare il libro e portarne qualche copia alle librerie però queste librerie non saranno le feltrinelli o le edizioni paoline questi posti qui saranno piccole librerie come quella che aveva il marchio che ha stampato il primo piano immaginario che era modo infoshop di Bologna non so se qualcuno la conosce insomma c'è una sottorete che può essere parimenti soddisfacente all'avere la distribuzione di una di una casa editrice ok ovvio la casa editrice ha più ha più freccia al suo arco però ha anche molti molti più titoli da promuovere e quindi una volta finito il tempo per la promozione di un titolo di un libro passerà quello successivo e quindi si crea l'effetto novità che è un'altra cosa abbastanza killer per i libri perché i libri cioè quelli veramente importanti non hanno l'effetto novità tipo se noi avessimo avuto questo questa feature sull'Odissea adesso è vecchia l'Odissea basta caspita se è vecchia cioè c'è tutto anche una componente di questo nell'editoria che adesso la affligge un po' e la fa diventare veramente poco immortale ed è che anche l'autore si sente non è che c'è una vera coercizione da parte delle case editrici insomma è proprio una cosa che sente anche chi 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 è autore di inserire più elementi con riferimenti all'attualità di modo da poter concentrare l'interesse nel momento in cui verrà fatto uscire il libro e quindi i libri che escono hanno una quantità di elementi che se li leggerai tra dieci anni andranno bene per essere dei pilastri della nostalgia cioè mettere dentro adesso personaggi con lo smartphone o schermate dell'app che sta andando di più adesso tra forse già cinque anni faranno dire ah guarda allora guarda questo mi collego a quello che hai detto su due fronti perché uno dall'altro c'è la caducità delle piattaforme e dall'altro appunto proprio il senso della distribuzione perché le piattaforme si estinguono le piattaforme cambiano e quindi mi fanno riflettere molto su qual è lo sforzo cioè che valore ha l'investimento tu ti immagini uno che ha investito tantissimo in questi anni su facebook ha fatto crescere un seguito su facebook e poi visto che quella piattaforma ricordiamo che quella vecchia lenza di Richard Stolman dice sempre che la cloud in realtà è semplicemente il nome per dire il computer di qualcun altro che non è tuo facebook ti cambia sotto le piattaforme ti possono cambiare sotto il culo facebook da un giorno all'altro ha cambiato l'algoritmo e quindi la tua pagina che prima raggiungeva x persone all'improvviso a meno che tu non gli dai dei soldi raggiunge x persone fratto 10 e questo mi fa idem può succedere con instagram ma può succedere con twitch può succedere con qualunque cosa il che mi fa riflettere su quale sia veramente il senso degli investimenti e io ci penso molto perché si perché a età faccio il gioco della piattaforma di turno ogni tanto perché le piattaforme sfruttano noi possiamo anche noi sfruttare le piattaforme però progetti come questo dimostrano che uno può vivere al di là delle piattaforme cioè tu un conto è costruire un seguito su instagram un conto è costruire un delle persone a cui gliene frega qualcosa di quello che fai tu e che quindi magari non saranno il milione di follower di un influencer ma possono essere sono delle persone che ti porti dietro negli anni e che nell'ottica delle autoproduzioni possono diventano un patrimonio molto più stabile nel senso che non servono 50.000 persone per fare un'autoproduzione fatta bene cioè con 500 persone puoi produrre di tutto sì sì no ma allora questo discorso del cambio di piattaforme persone come me come te che sono nate in un certo momento lo affrontano con delle armi in più perché tutto quello che avviene adesso nelle app è già stato scritto dalla guerra delle console cioè lo sappiamo e ancora prima dalla guerra dei dei proto pc perché all'inizio negli anni 80 quando tu volevi comprare un computer e metterti a usarlo dovevi avere una base minima di programmazione per poterlo usare non ce n'è non si scappa poi pian piano i computer sono diventati un po' più user friendly e hanno avuto dell'interfaccia molto più gestibili dalle persone poi sono nate le console che avevano tutte questa idea davano tutta l'illusione dell'immortalità cioè una console come la playstation quando uscì cioè era proprio un monumento all'eternità proprio poi quando è uscita la playstation 2 ancora più incredibile cioè ma la caducità di queste console quando soprattutto quando sono arrivate l'xbox 360 eccetera eccetera ha cominciato a far vedere che erano tutte caffettiere sostanzialmente degli degli elettrodomestici che cambiavano un po' di componenti e cercavano di venderti ehi qui stiamo facendo delle grandi cose poi qualcuno è riuscito a fare comunque delle grandi cose però ti distraevano un po' dal fatto che la cosa importante sono i titoli i giochi che escono quindi persone che hanno visto diverse generazioni di console hanno cominciato a ragionare per a me non me ne frega niente di questa console o di quell'altra console mi interessa che esce quel titolo ed esce solo su quella console bene allora cercherò di reperirlo non riesco a reperirlo perché non ha abbastanza soldi aspettiamo che il titolo si apra e lo facciano anche sulle altre console oppure ci sono ecco vabbè a parte questo una cosa che non hanno queste app di adesso e che invece l'universo videoludico ha è la possibilità di giocare con i titoli vecchi cioè se non so una playstation non è una playstation 5 non è retrocompatibile con la 1 vabbè riuscirai a giocare a quel gioco della 1 recuperare un profilo su myspace in questo momento cioè forse esiste ancora il sito ma vengono spazzati via cioè a un certo punto qualcuno dirà no robaccia non serve più facciamo pulizia non c'è più questo genere di non c'è un collezionista che sul suo server osterà osterà un myspace ecco c'è questa è la mia pagina di myspace esiste e però non c'è più niente cioè clicco su music guarda guarda questo è uno dei simboli più belli dell'epoca cioè l'immagine con l'iconcina del foglio rotto cosa è per me questa è il monumento del lutto cioè io vorrei questo vorrei quell'iconcina sulla mia tomba è bellissimo cioè è questo però che c'è cioè la dirigenza di questo di questo sito a un certo punto ha dovuto cambiare per forza sede perché non avevano più più utenti oppure non riuscivano a mantenersi come prima ha dovuto spostare i server oppure tagliarli non ne hanno più come prima e quindi non hanno più i dati di prima e quindi questa illusione dell'immortalità cade e idem tutti gli altri che ci sono adesso cioè abbiamo l'illusione dell'immortalità sempre meno di facebook comincia a cascare anche quella di un instagram e quindi di conseguenza mettendoci su delle nuove piattaforme noi che abbiamo visto la guerra delle console ci facciamo l'idea che non sarà per sempre ma noi dovremmo mutare forma ogni volta che sentiamo odore di cadavere molto semplice e una delle cose di cui stavamo parlando con Rico era ma senti ma facciamo così compriamoci dei server e o stiamo il nostro peer tube o stiamo il nostro facciamo il nostro social network basato su manyverse sostanzialmente e se anche quelli a un certo punto dovessero andare a ramengo io prima che tutto cada do un appuntamento in un luogo fisico e con un con uno scalpello nella roccia scrivo ci troveremo qui ogni secondo mercoledì del mese se non ci siamo vuol dire che dovete aspettare quello dopo Napo c'è una domanda bellissima c'è bigrz94 che è in realtà cert che saluta ciao cert ti vogliamo benissimo e poi tra l'altro non ti ho chiamato ieri ma ti devo chiamare scusami faremo cose e Napo mi descriveresti la tua piattaforma ideale ed è un po' quella che hai appena descritto cosa che di cui adesso voglio parlare perché ti dico vai vai tu parla la mia piattaforma ideale che è anche quella che ha formato il mio disegnare e esporre socialmente disegni è una bacheca di legno che stava al primo piano del liceo dove andavo a Voghera e davanti alla quale passavano tutti i miei compagni di scuola e siccome io ero sostanzialmente una persona invisibile al tempo ho utilizzato quella bacheca che veniva utilizzata per metterci dentro le comunicazioni che ne so le comunicazioni circolari per gli studenti cioè cose che ci sono due volte l'anno dove qualcuno qualche volta appendeva qualche manifesto di concerto ma raro l'ho semplicemente scuottata e ogni giorno attaccavo le idee dei disegni che facevo e così io ho trovato un una quadra alla mia presenza a scuola altrimenti sarebbe stato proprio e quindi quella è la mia idea l'altra idea potrebbe essere che adesso è molto più difficile dipingere sui treni quello era un buon modo per far vedere le proprie cose però poi comunque anche lì si innescavano altre dinamiche quindi la mia idea è sempre quella di appendere i disegni da qualche parte in giro e questa idea può essere ostata in varie situazioni dalle più concrete alle meno alle meno concrete insomma però c'è da dire che quando c'è di mezzo una una corporate che ti dà un servizio e tu non lo stai pagando a un certo punto da qualche parte dovrà tirarli fuori sti soldi perché sono persone sostanzialmente che non conoscono altre vie per fare le cose se non quella di avere un ingresso di denaro che passa attraverso lì ed esce da quell'altra parte e quindi mi dispiace per loro poveretti come quella vignetta di Michael e Mirko recitava qualche giorno fa c'era il povero che dava le lemosine al ricco perché diceva tu hai bisogno di soldi io sono abituato a far senza vabbè Michael la baseline di Michael è sempre alta ogni tanto non si regola e ha dei picchi di dei picchi di significanza notevoli però scusami un attimo dimmi mi hai solticato la fantasia perché allora di recente io Babic e Bellotta abbiamo fatto una cosa in quella direzione nel senso che mi sono rotto le palle che le cose che per me sono importanti siano alla merce del computer di qualcun altro ma vaffanculo e quindi abbiamo match siamo fatti un server abbiamo investito alcuni della cassa di Kenobisboc per fare un per fare un server dove teniamo le cose che per noi sono importanti senza affidarci al fatto che qualcuno le mantenga su un server pagando però e anche se mi rendo ben conto che la soluzione ai all'economia delle piattaforme probabilmente non è creare un'altra piattaforma no però mi affascina tantissimo come dettaglio cioè una piattaforma slegata perché alla fine cos'è che inquina cioè io ho realizzato cos'è che inquina è un uovo di colombo incredibile ma la cosa che inquina le piattaforme è che devono essere profittevoli e quindi perché siano perché siano profittevoli la gente le deve usare sempre di più e perché le usi sempre di più subentra un algoritmo che è tanto più bravo quanto più tu passi più tempo e quindi invece che darti una visione completa e cronologica dei contenuti che ci sono su instagram ti dà una visione tarata in modo che tu clicchi di più sulle pubblicità e tu stia più tempo sulla piattaforma a me piacerebbe tantissimo un un luogo felice dove ma anche per le robe che interessano a me per le robe che interessano a noi per l'underground per il mondo per poi non serve neanche essere globali non serve essere giganti una roba nostra dove c'è l'underground è una parola che uso molto spesso ma perché è un concetto molto è un concetto che mi è caro ed è un concetto secondo me molto esplicativo nel senso perché è effettivamente una rete di radici sotterranee che si che si vanno a toccare sarebbe bello è un problema legato ai costi o alla voglia di profitto è un problema legato alla parola con la c che è che non è croppocchio ma è capitalismo e perché una piattaforma una roba che costa che ha delle società dietro come facebook deve fare dei guadagni ecco nel senso anche qui possiamo risalire ancora di più perché la parola la parola con la c che è appena menzionato è anche portata avanti male nel senso perché non è se queste persone fossero veramente solo interessate al profitto cercherebbero di realizzarlo per il maggior tempo possibile invece creando delle piattaforme che vanno pian piano esaurendosi si capisce chiaramente come si capisce in un app o in un videogioco l'intento di chi l'ha scritto in una società in una corporate e nella sua curva di salita e discesa si capisce qual è l'atteggiamento umano dei suoi delle persone che la controllano se a queste persone non interessa che tra vent'anni non esisterà più perché ne faranno un'altra vuol dire che la loro voglia la loro affezione nel confronto della loro creazione della macchina che hanno creato è pari a zero e quindi non sono bravi nemmeno a cercare di mantenere qualcosa che dura nel tempo non sono bravi a costruire qualcosa che dura ma io mi intanto io mi immagino anche una forma di backup distribuito nel senso è ovvio che una roba come facebook accumula una quantità di dati infinita non è non è che non è possibile ma tenere tutto ma si possono fare degli archivi e poi quegli archivi si possono distribuire tramite torrent in modo che l'archivio ce l'hanno 300 400 500 persone verni mark dice se vi serve una struttura microserver ve la metto su io poi vedi c'è anche questo dettaglio che la cosa che amo del nostro piccolo mondo sotterraneo è che c'è un sacco di gente che sa fare che sa fare cose e soprattutto che possiamo fare il cazzo che vogliamo senza chiedere il permesso a nessuno ed è una roba che mi scalda tantissimo il cuore ma Napo torniamo un attimino al discorso piano immaginario lo potete preordinare adesso e lo potete comprare per un periodo e poi mai più perché no 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 non è come prima o mai non è come prima o mai ah vedi che sono stupido vai parla se no allora abbiamo lavorato tempo addietro con prima o mai quando abbiamo fatto il cartografo e sarebbe stata un'opzione interessante per il piano immaginario se non fosse che è quel o mai per un libro che ci ho impiegato dieci anni quasi a terminare ti fa incazzare no no non mi fa incazzare perché comunque è un'idea che mi è sempre piaciuta quella di Rattiger prima o mai però non è adatto semplicemente a un libro non può esaurirsi in quel mese lì e quindi ho detto vabbè se no c'era già anche un dialogo aperto con con Rattiger per il primo o mai del piano immaginario però ripeto questo preorder sarà fino al 9 aprile e ci sarà la possibilità di acquistarlo a quel prezzo lì dopo il libro esce e comprese le spese costerà di più perché abbiamo tenuto il prezzo più basso possibile per fare in modo che tutti quelli che lo volevano assolutamente lo spendessero meno e aiutassero a costituire questa base che permette a noi di a me e a un me G. Geico che sono tre tre mie amiche con cui anzi una moglie e due amiche con cui dialoghiamo costantemente sull'uscita del piano immaginario permette a noi di non doverci svenare per poter che in questo momento non era neanche proprio il caso per poter far uscire per far uscire il libro quindi dal 9 di aprile quando si chiederà il preorder arriveranno le copie qui a casa le spedirò e poi il libro sarà uscito e acquistabile a un prezzo lievemente maggiorato insomma e acquistabile nella realtà senza questioni di come si dice c'è un tempo per farlo non c'è un tempo insomma abbiamo fatto questa cosa qui adesso per questo tra l'altro come fa notare gente in chat 900 e passapagine fatte così questo formato rilegatura cucita a filo 35 euro è veramente zero è veramente abbiamo semplicemente tagliato su quello su cui potevamo tagliare ovvero il nostro guadagno perché tanto comunque qualsiasi cifra entri non è proporzionata al lavoro che ci è stato messo secondo il metodo di valutazione del lavoro quello tradizionale che è una merda che i soldi sono una pessima unità di misura delle cose eh sì sì però però per come la vedo io qualsiasi cifra entri per questo lavoro è tantissimo perché comunque quando io nel fare questo lavoro io non ho nel senso creare disegnare non è che ti dà soltanto dei risultati settoriali per quel libro mi sono venute delle idee per cose che riguardano altri libri mentre facevo questo libro mi sono venute in mente idee per risolvere questioni personali e quelle non sono valorizzabili mi sono venute nel senso ho fatto girare le rotelle ho sì consumato risorse ma ne ho prodotte altre di vario tipo è incalcolabile quindi per questo io non amo il termine lavoro perché quando ti si dice eh tu hai svolto questa queste mansioni ti deve essere corrisposto questo questo denaro sì ma una persona non ha svolto quelle mansioni una persona ha svolto un quantitativo incalcolabile di mansioni correlate alla mansione che sta svolgendo tutto questo viene come si può dire obnubilato questa percezione della ramificazione del proprio creare e fare sui posti di lavoro perché è ovvio che lì viene mantenuta l'idea che tu stai facendo stai producendo questo questo apparecchio questo stai producendo questo server ecco tu stai montando un server tutte le tutte le come si chiamano le risorse che attivi partono da te ed entrano dentro questo server e questo è è closed source l'impiego di risorse in realtà no perché mentre tu monti per la centesima volta lo stesso server impari ti stai autoformando sulla manualità potresti hai imparato a montare un server ma potresti montare anche dei computer potresti montare anche dei modem potresti montare anche che ne so di tutto cioè c'è un un ritorno a livello di formazione nel fare cose finalizzate al lavoro che è assolutamente incalcolabile e quindi per me anche lavorare in cucina ecco rifare per la otto milionesima volta le orecchiette tu le sai fare le rifai per l'otto milionesima volta ma quella otto milionesima volta è fondamentale perché hai acquisito un'esperienza che la persona che le ha fatte soltanto quattromila volte non ha guarda su questo Napo ti giuro che è una roba a cui penso allora io e te secondo me potremmo trovarci un giorno e parlare per due ore solo di questo aspetto del produrre del produrre pasta perché è una è una il produrre pasta è una rappresentazione cioè è un esempio così evidente e funzionante esplicito di questo ragionamento perché io ci penso penso esattamente quello che hai appena detto e ci penso ogni volta che faccio le orecchiette che amo fare e io penso che alla fine di ogni orecchietta che faccio fanno una persona diversa da quella che non aveva ancora fatto quell'orecchietta le mie orecchiette migliorano negli anni o a volte peggiorano a seconda del mio umore e le orecchiette endores io le faccio con la semola rimacinata di grano duro un pizzico di sale acqua tiepida non caldissima e a me piace metterci anche un cucchiaio di olio extravergine d'oliva ma la cosa bellissima dell'orecchietta è che devi trovare la giusta idratazione troppo e ti vengono ecco ad esempio mi viene in mente adesso noi parliamo di noi ma anche cose molto mainstream tipo il documentario giro dreams of sushi non so se qualcuno l'ha visto c'è questo novantenne non so se è ancora in vita o meno però penso lo sia vista la longevità giapponese questo novantenne che ha iniziato tipo a fare sushi a 13 anni e dice ha l'unico ristorante di sushi tristellato a Tokyo che sta sotto la metro di non mi ricordo dove suo figlio di 60 anni lavora ancora lì e gli fa arrostire le arrostisce le alga per dire e faceva questo discorso diceva venite pure con le telecamere nella mia cucina venite segnatevi tutto quello io non ho segreti l'unico segreto che ho della mia cucina è che io lo faccio da più di 70 anni i miei apprendisti hanno un tempo di apprendimento qui che un apprendistato lo fanno in 10 anni venite a come si dice a filmare tiratevi giù tutti i segreti che volete ma non farete la stessa cosa che faccio io perché non è possibile copiare questo genere di apprendimento stratificato che fai giornalmente che poi tra l'altro è il motivo per cui io detesto chi mantiene i segreti quando qualcuno io lo penso sempre nella musica quando qualcuno mi chiede come faccio alcune cose con il gameboy io te lo dico in maniera precisissima perché a parte che diffondere conoscenza e informazioni è bello le informazioni vogliono essere libere ma a parte questo non è che se io ti dico esattamente i parametri della mia cassa di lsdj cosa che faccio a tutti quelli che me lo chiedono poi all'improvviso fai la mia musica è tutto è tutto diverso e tra l'altro perché io mi ricordo una delle cose che mi hanno fatto più tristezza una volta avevo visto un concerto di musica elettronica al Magnolia c'era un bel synth e c'era l'artista che aveva messo un panno nero sopra i pomelli e io alla fine gli chiesi ma scusami a cosa ti serve il coso il panno nero sui pomelli e mi aveva risposto così la gente non mi copia i preset e io ho pensato ma sei un coglione è veramente la cosa più triste che abbia sentito beh nel senso forse non conosceva dei fonici ninja perché i fonici ninja non hanno bisogno di vedere dove sono posizionate le manopoline per capire che preset le percepiscono ci sono ci sono persone che sono così affinate che ti dicono ah questo synth nord questo è un nord si questo questo quello Yamaha senti come è freddo ah questo ah quella cioè nel senso i veri i true nerd di synth te li tanano subito sono dei savant cioè bellissimo sono tipo dei monaci che hanno affinato il settimo senso dell'audio mi divertono mi divertono moltissimo cioè è bello una roba come guardare chi disegna cioè anche lì segreti segreti cose da trattenere insomma boh la persona che disegna è proprio come si dice è un'attitudine da da mago charlatano alchimista medievale che deve deve comunque non rivelare i propri segreti perché c'è qualcosa che potrebbe far capire come ha fatto le cose e quindi far cadere la magia no? ecco che figata Napo io starei giorni a parlare con te e spero che lo potremo fare molto presto nel mondo reale io vi ricopio in chat il link a piano immaginario prendetelo secondo me non prenderlo è una follia io tra l'altro l'ho già messo nella cassa però non voglio magari darvi il mio indirizzo esatto direttamente on stream quindi finisco mantieni un segreto mantengo è vero vedi il mio segreto il segreto di dove vivo questo non è male però comunque anche lì puoi fluidificare la tua vita tramite più posti hai più server dove andare a riposare i tuoi dati il nomadismo stanziale sì 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 bene amici amiche piano immaginario Napo aka LapisNiger lo potete preordinare a una cifra molto più bassa di quella che sarà poi quella del prodotto finito e nel farlo potete potete anche alimentare e sostenere un modo diverso di fare le cose che a me prende proprio bene Napo ci vediamo presto tra l'altro io non vedo l'ora che che mi aprano che mi aprano Milano e che aprano le zone perché abbiamo abbiamo una terza abbiamo una terza VR in ballo io te Rico alla prima occasione che tra l'altro è un po' una quest che abbiamo cioè è la pandemia contro la nostra passione per la realtà virtuale perché in più occasioni si è frapposta ma faremo anche quello Napo ti saluto vado a fare un ride e salutami salutami Marta e il piccolo questo è un segreto non voglio rivelare il nome del piccolo infatti guarda perché sennò lo cercano su facebook non lo troveranno mai non lo troveranno mai bene fratello buona giornata a prestissimo grazie di tutto grazie a te ciao ciao a tutti